Questa bambola non ero assolutamente intenzionato ad acquistarla per i motivi che vi ho già raccontato in uno degli scorsi video. Una persona a me molto cara ha saputo che mi piaceva da morire e ha deciso di regalarmela. Chi sono io per rifiutare un regalo del genere? Quindi eccoci qua a recensirla perché ragazzi a questo punto ovviamente me la tengo e non vedo l'ora di tirarla fuori dal box. Quindi iniziamo! Ed eccoci qua con la limited edition di Ariel in scatola. Fortunatamente la Disney è tornata a fare queste scatole leggermente più piccole con fronte alle limited edition, le ultime che hanno fatto uscire quelle di Merida, Jasmine e Biancaneve. Ovviamente nella parte frontale c'è tutta questa vetrina che ci lascia vedere completamente la bambola all'interno. Nella parte superiore c'è questo bordino dorato a forma di conchiglia o meglio dovrebbe richiamare il bordo di una conchiglia. Qui troviamo ovviamente il logo della Disney, da questa parte il simbolo 6+, che ci dice che è consigliata per un pubblico dai 6 anni in su. Nella parte qui in basso in mezzo a tutto questo colore olografico bellissimo troviamo anche la scritta Ariel all'interno di questa conchiglia. E appena più in basso la scritta limited edition una di 5200, non ne hanno fatte tantissime di questa Ariel. Anche sui bordi ritroviamo gli stessi disegni che richiamano quasi dei coralli e ovviamente l'apertura che richiama invece la forma di una conchiglia. Tutto sopra ha questo cartoncino olografico che però vedremo meglio sul retro. Anche l'altro lato è praticamente identico, richiama sempre gli stessi disegni con la stessa apertura a forma di conchiglia. Invece sul retro come sempre c'è questo fiocco che andiamo subito ad aprire, realizzato con del nastro lilla, dove ora spero di riuscire a farvi vedere che tutta questa carta, tutto questo cartone è completamente riflettente e olografico. Davvero molto bello, richiama un sacco i colori della coda di Ariel. Qui nella parte superiore troviamo il logo Disney con anche il logo del film della sirenetta. Al centro c'è di nuovo un'enorme conchiglia con un sacco di cose scritte in ovviamente diverse lingue come sempre, inglese, francese e spagnolo. Vi lascio qui un attimo la descrizione in inglese così potete mettere in pausa il video se volete leggerla e tradurla. Nella parte inferiore invece ci dicono che il certificato di autenticità e lo stand sono fortunatamente inclusi, sopra ad alcune informazioni che come sempre a noi non interessano. Nella parte superiore della scatola troviamo questa maniglietta realizzata con lo stesso raso del fiocco di prima. E questa apertura che non ricorda molto una conchiglia, non so cosa dovrebbe ricordare, ma che lascia intravedere all'interno il logo stampato con questo effetto dorato dove troviamo ovviamente il logo della sirenetta. Come per tutte le limited edition anche per lei possiamo rimuovere la parte frontale di cartone per poterla se vogliamo tenere esposta solamente con la parte di plastica protettiva ma completamente trasparente in modo da poterla vedere tutta benissimo. E anche questa parte di plastica è stata fortunatamente tutta decorata con delle decorazioni che richiamano il box esterno, la parte di cartone. Qui al centro troviamo scritto in oro il nome Ariel e poi come vedete delle conchiglie e quelli che sembrano o delle alghe o dei coralli che proseguono anche lateralmente sui lati della scatola fino a salire nella parte più alta della sua scatola, nella parte proprio superiore. Possiamo ovviamente rimuovere anche questa parte di plastica così da poter vedere, toccare, fare tutto quello che vogliamo la nostra bambola limited edition senza doverla togliere dal box e quindi senza farle perdere valore anche se credo che quest'area di valore non ne avrà molto. L'ultima cosa che possiamo rimuovere è proprio la nostra bambola dal retro della scatola per trovare il certificato di autenticità. Anche questo realizzato su questa carta olografica che forse adesso si nota anche meglio a confronto a prima con ovviamente lo stesso design, con delle bolle disegnate, il logo Disney, il logo ovviamente della sirenetta. Qui ci certificano appunto che è l'area il collector doll e appena più in basso come sempre già stampato in oro il numero della nostra bambola e la mia è la 3977 di 5200. Se lo giriamo sul retro troviamo le stesse cose sotto alle scritte di questa plastica ma scritte come sempre in francese. Adesso però che abbiamo visto tutta la scatola non sto più nella pelle quindi vado subito ad unboxarla così da guardarla assieme fuori dal box. Ed eccola qui una volta tirata fuori dal box e ragazzi devo dirvi che diventa completamente un'altra cosa. È davvero davvero bellissima e adesso però avviciniamoci e guardiamo bene il suo viso. Lo stampo del suo viso è quasi completamente identico alla versione singing del Disney Store infatti lo troviamo un pochino più realistico confronto a quello di Mattel. È molto carino perché ha qui sulle guance queste specie di fossette che ricordano un sacco quelle dell'attrice. Anche il naso è molto particolare, ha questi zigomi molto alti. Devo dire che mi piace. Mi piace davvero un sacco e con questo trucco, con questa stampa è sicuramente molto meglio della singing. I suoi occhi sono castani proprio come quelli di Allie Bailey e notiamo che all'interno nell'angolo centrale hanno anche aggiunto un punto rosa quasi rosso proprio per dare un aspetto ancora più realistico a questa bambola. Ovviamente alle ciglia rutate. Sugli occhi indossa un leggerissimo ombretto castano molto naturale giusto per dare profondità al viso e per rendere gli occhi un pochino più femminili. Le sopracciglia nella parte centrale sono un pochino più chiare, nella parte finale sono un pochino più scure e hanno dei pelettini disegnati all'interno. Sopra al suo sopracciglio sinistro vediamo che le hanno anche stampato il neo che l'attrice ha proprio sul suo viso. Sulle guance indossa un po' di blush che le dona particolarmente, invece sulle labbra indossa questo rossetto che è quasi color mattone, è un rosso marroncino completamente lucido e le sue labbra sono aperte in questo sorriso. Il viso mi piace tantissimo. Se ci alziamo un pochino e alziamo anche i suoi capelli vediamo che le hanno stampato anche in questa versione i baby hair. Li troviamo qui lungo tutta l'attaccatura dei suoi capelli. Sono carini e devo dire che sono anche abbastanza discreti perché come vedete una volta che i suoi capelli sono sciolti praticamente non si notano. Guardando la sua testa nella parte superiore vediamo che i suoi capelli sono stati rutati esattamente come la singing. Infatti ci sono tutti i capelli diciamo normali sciolti da cui in mezzo fuoriescono questi dreadlocks che però sono di una fibra completamente diversa da tutte le altre bambole e sono decisamente molto più morbidi. Dal retro riusciamo a notare meglio che ci sono appunto questi dreadlocks appoggiati sopra i suoi capelli sciolti leggermente ondulati, leggermente mossi, che arrivano fino sotto al sedere. Quindi praticamente della lunghezza esatta di quelle che ha l'attrice nel film. Come vi dicevo i dreadlocks sono davvero molto morbidi perché sono realizzati con una fibra davvero particolare. Spero che nel tempo non si dis fino qui in fondo perché non voglio andare a sigillarli, non voglio rovinare questa bambola mettendole dello smalto sui capelli come faccio di solito. Invece nella parte inferiore troviamo tutti questi capelli che sono un castano rossiccio, un colore perfettamente azzeccato per lei, di una fibra diversa confronto alle altre bambole, una fibra sicuramente più buona, non c'è alcun tipo di gel, sono davvero morbidissimi e praticamente già perfetti appena tirati fuori dalla scatola. Andando però a vedere quello che indossa ovviamente è tutto abbastanza semplice essendo lei una sirena in costume. Nella parte superiore abbiamo questo reggiseno che richiama la forma esattamente di tutte le bambole di questa linea. In questo caso il tessuto però è stato riciclato dalla Singing perché è lo stesso identico tessuto che come vedete ha tutti questi riflessi rosa e verdi molto carini e questa texture a forma di squame. Mi piace anche se sinceramente avrei preferito un tessuto nuovo. Lungo tutto il bordo però hanno applicato questo tulle bianco che impreziosisce un pochino questo reggiseno. Ovviamente qui troviamo anche due spalline di silicone trasparente che risultano davvero quasi invisibili ovviamente per fare in modo che il reggiseno non scivoli e che rimanga a coprire le sue tette. La sua coda invece è realizzata interamente di questa stoffa verde con tutte queste paillette trasparenti applicate sopra che vogliono dare l'effetto delle squame. Infatti se noi andiamo a vedere qui e andiamo a muoverla sotto la luce vediamo che queste paillettes danno tutti questi riflessi proprio come se fossero delle squame di un pesce. È davvero una trovata geniale probabilmente per risparmiare sui tessuti ma comunque mi piace un sacco perché dà veramente tantissima luce a tutta la sua coda. Che però se proseguiamo e andiamo a vedere nella parte finale diventa completamente rosa ma sempre con le stesse paillettes trasparenti applicate sopra. Nella parte iniziale vediamo che hanno anche aggiunto questi due bordini che non so se vogliono essere delle pinne non ho capito neanche nel film ma comunque questi due bordini che aveva anche l'Ariel del classico. E in questo caso li hanno realizzati con questo tessuto bianco tutto completamente iridescente. Infatti ha un sacco di riflessi dall'arancione al verde davvero molto bello. Qui al centro vediamo anche già che le hanno colorato la pancia con lo stesso verde della coda proprio per dare l'effetto che la sua coda stia sfumando nella sua pancia. Che non sia tipo un vestito ma che si fonda proprio con il suo corpo. Forse hanno realizzato questa sfumatura leggermente troppo alta ma devo dire che il colore così perlato è praticamente perfetto per la sua coda. Ma andando a girarla e guardarla sul retro vediamo che anche dietro le hanno applicato queste due pinne che lei ha proprio nel film e che hanno messo anche nella Bambola Singing per fortuna. Realizzate con questo tulle con questa specie di tessuto tutto olografico che non so bene se sia un tulle o cos'altro ma che parte dal suo sedere e continua lungo tutta la coda fino proprio alla fine fino proprio alla parte rosa. La cosa carina è che sono stati realizzati in quattro pezzi diversi perché questi due qui in basso sono un pochino più piccoli si fermano all'altezza delle sue ginocchia. E poi ne ricominciano altri due che come vedete sono un pochino più grandi e proseguono esattamente fino sopra al suo sedere proprio dove inizia la sua coda. E in più guardate che bei riflessi che ha questo tessuto boh io mi sto innamorando di questa Bambola e non va bene non va bene. Ma andando a vedere però la sua pinna finale che è forse la cosa più enorme più appariscente e quella che dovrebbe essere anche la cosa più bella di questa Bambola. Vediamo che non ha una vera pinna o due vere pinne ma ha questo tessuto cucito in fondo la sua coda. È realizzata con due tessuti diversi sovrapposti cuciti assieme qui proprio in fondo ai suoi piedi. Infatti come vedete qui finisce la sua pinna qui inizia questo tessuto e poi sotto troviamo questo pezzo di tessuto blu a cui è attaccato questo altro tessuto. Entrambi hanno un orlo per fortuna ma non sono come vedete una vera pinna. Adesso qui li sto tenendo chiusi per lasciare la forma ma se la guardate così purtroppo non sembra realmente una pinna per quanto questi tessuti siano belli ma sembra quasi più una gonna. Potrebbe esserci qui il busto e questa essere un'enorme gonna. Il primo tessuto comunque è semitrasparente realizzato con tutta questa plissettatura per dare questo effetto lucido iridescente bellissimo ed è lo stesso identico che abbiamo visto anche prima sul retro della sua coda perché è lo stesso di queste pinne che troviamo qui. Sollevando questo però vediamo l'altro che invece è di diversi colori perché inizia qui nella parte centrale verde ma poi spostandoci lateralmente diventa sempre più viola. Infatti alla fine come vedete è completamente viola. Sicuramente tutto questo tessuto realizzato in questo modo e cucito in questo modo fa un sacco di scena ma mi sarebbe piaciuto che avesse anche un paio di pinne vere e proprie magari cucite qui sotto. Ho visto una ragazza che le ha realizzate su Instagram ma forse proverò a realizzarle anch'io ma ve ne parlerò alla fine del video. Con lei arriva anche lo stand che ragazzi è minuscolo in questo caso è minuscolo e fa veramente fatica a tenere sulla bambola infatti mi è già caduta tre volte registrando questa recensione. E in più la parte del gancio oltre ad essere gigantesca perché è enorme è anche troppo bassa praticamente l'asta è troppo corta. E infatti questo è l'unico modo per far stare la bambola con le gambe dritte ma come vedete non è sullo stand. I suoi piedi finiscono oltre lo stand ma molto oltre lo stand. Per riuscire a farle appoggiare i piedi sullo stand dobbiamo piegarle le gambe perché come vedete lo stand le arriva giusto sui fianchi ma con le gambe piegate. Non ho capito perché non migliorare lo stand perché non farne uno leggermente più lungo. E in più come vi dicevo questo stand è troppo grande perché come vedete la bambola ci balla all'interno. Per fortuna che io comunque andrò a rimetterla in scatola perché sporla in questo modo mi farebbe venire decisamente tanto il nervoso. Ma adesso andiamo a vedere il suo corpo che ha qualcosa di particolare. Perché il suo corpo nella parte superiore è completamente identico a quello di tutte le altre limited edition. Infatti troviamo lo snodo in vita, troviamo l'articolazione alle spalle, ai gomiti e ai polsi. Le mani sono le stesse identiche delle altre bambole limited edition e ormai anche di tutte le classic Disney store. Ma le ginocchia come vedete ricordano un sacco le ginocchia delle limited edition e in più è articolata anche ai piedi. Infatti se andiamo a piegare le sue gambe vediamo che si piegano quasi completamente. Rimangono un pochino staccate ma hanno un range di movimento che solitamente le limited edition non hanno. Anche i suoi piedi sono particolari perché hanno questa forma da scarpa con il tacco che però solitamente quando mettono questi piedi non c'è l'articolazione alla caviglia. Io ho sempre visto l'articolazione alla caviglia con i piedi piatti ma in questo caso come vedete i piedi non sono piatti ma l'articolazione c'è proprio per andare a mettere il suo piede completamente in punta e inserirlo all'interno della coda. Anche qui però si riesce a vedere quanto lo stand sia piccolino e soprattutto corto per lei perché non riesce nemmeno a mettere i piedi in punta. Cade proprio perché lo stand non la sorregge. Già che ci sono vi faccio anche vedere come è stata realizzata la striscia di verde sulla pancia che abbiamo visto anche prima. Diciamo che potevano continuarla fino alla mutanda invece si sono fermati appena sopra probabilmente per risparmiare colore non lo so però prosegue tutto intorno anche sul retro infatti troviamo la stessa cosa la stessa striscia anche sulla schiena. Ma passando le cose che arrivano con lei la prima cosa che vi voglio mostrare è questa borsa davvero molto carina è praticamente la borsetta che ha lei fatta di rete che utilizza sia nel classico dell'89 che in questo live action per raccogliere gli oggetti che perdono gli umani nel mare. Ed è realizzata veramente benissimo ci sono un sacco di applicazioni anche di metallo queste ad esempio sono completamente di metallo e troviamo questa chiave molto carina nera questo brillante invece che sembra quasi un cabochon cucite entrambe in questo punto. Da questa parte invece abbiamo due pendagli che sono stati anche decorati e colorati questo come vedete è argento con la decorazione oro e invece questo qui ha una piccola finta catena grigia e la parte finale da una parte verde acqua e invece dall'altra è dorato poco più in basso c'è anche questa conchiglia tutta grigia ma perlata con dei riflessi molto carini peccato che dall'altra parte si vede all'interno dello stampo e più in basso troviamo anche questi fili dove ci sono attaccati questi charms questi pendaglietti qui ne troviamo uno dorato di metallo molto carino che non so cosa rappresenti sembra quasi una pigna ma credo che sia solamente una cosa estetica e ancora più in basso invece questi altri pendaglietti qui troviamo una perlina trasparente ma con tutti i riflessi arcobaleno quest'altra perlina invece nera lucida di metallo e quest'altro dettaglio sempre di metallo molto carino che sembra quasi invecchiato e infatti come vedete ha delle sfumature più chiare e più scure come se fosse del bronzo invecchiato ovviamente c'è anche tutta la tracolla attaccata realizzata con due cordine arancioni annodate qui in questi quattro punti ma all'interno di questo sacchetto troviamo anche l'arriccia spiccia che è stato realizzato benissimo è bellissima questa forchetta è di plastica purtroppo l'avrei preferita in metallo ma è comunque bellissima con tutto questo effetto di metallo anticato dei dettagli qui sull'impugnatura molto belli e come ultima cosa c'era anche questo cannocchiale molto carino grandezza perfetta per farglielo tenere in mano e per ricreare magari la scena iniziale del film tutto dorato con questa parte colorata di nero è stato colorato di nero anche nella parte davanti dove ci dovrebbe essere la lente e anche nella parte dove dovremmo andare ad avvicinare l'occhio per guardare appunto attraverso il cannocchiale queste cose sono forse le cose veramente più belle e fatte meglio di questa bambola sono davvero bellissimi soprattutto l'arriccia spiccia che io vi giuro so che sembra una cosa stupida ma desidero da quando sono piccolo di avere un arriccia spiccia tutto mio una cosa che non è con la bambola ma che mi è arrivata assieme a lei è la chiave della cerimonia d'apertura del Disney Store ovviamente a tema la sirenetta ordinando questa bambola o comunque facendo un ordine di 30 euro sullo sito Shop Disney arrivava questa chiave e a me è arrivata appunto assieme a lei è attaccata a questa etichetta dove troviamo un'immagine di Ali Bailey ovviamente nei panni di Ariel il logo del film qui sotto ci sono anche Sebastian e Flander sul retro ci sono delle informazioni all'interno ci sono delle informazioni e questa ragazzi è la chiave devo dirvi che è molto 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 bella mi piace tantissimo soprattutto tutti i decori che hanno fatto qui sulla D e anche qui nella parte del castello non mi convince particolarmente come hanno disegnato Ariel qui in mezzo l'avrei disegnata in un modo diverso sull'altro lato invece la D è identica la parte del castello è identica ma qui al centro c'è scritto My Voice is a Treasure con anche una conchiglia davvero carina e sono contentissimo di averla perché collezionare le chiavi a me piace da morire e questa era la bambola limited edition di Ariel tratta dal nuovissimo live action che è ancora presente in tutti i cinema in Italia e non ci resta che fare alcune considerazioni finali sicuramente avrei realizzato alcune cose in un modo diverso ad esempio il reggiseno con un altro tessuto anche se comunque questo risulta comunque bellissimo e le si addice perfettamente il prezzo è decisamente esagerato e soprattutto cosa che vi ho già accennato durante il video avrei messo un paio di pinne in mezzo a tutta la stoffa che le hanno messo in fondo alla coda proprio per questo motivo ho pensato di provare a realizzarle io farò qualche tentativo farò qualche prova ho già diverse idee se riuscirò ad ottenere un bel risultato vi farò magari un video e ve le mostrerò dove magari vi spiegherò anche come fare se volete farle anche voi magari per le vostre Ariel sia per la limited edition che magari per le altre però ragazzi non vi assicuro nulla ho delle idee devo provare e se le prove verranno bene allora sicuramente ve ne parlerò per il resto però ragazzi io la trovo davvero bellissima è una bambola assolutamente wow 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 vi dico la verità che le avrei dato 4 wow questa volta da tanto che mi piace ma per quello che vi ho appena detto e soprattutto per il prezzo non posso darglielo perché comunque per quanto la coda risulti lo stesso bellissima anche senza pinne per quanto la scatola mi piaccia da morire per quanto i suoi capelli e il suo viso mi piacciono un casino e soprattutto la borsa con gli accessori il prezzo è davvero spropositato ed eccessivo per la qualità e i dettagli di questa bambola detto questo ragazzi aspetto di sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti che sono davvero curioso voglio sapere se a voi lei piace oppure no e soprattutto sono curioso di sapere se vi interesserebbe eventualmente un video su come realizzare le pinne per queste bambole ricordandovi sempre che prima devo fare qualche tentativo e non è sicuro che io ci riesca ma sono curioso di sapere se vi interesserebbe così magari mi ci impegnerò ancora di più quindi commenti qui sotto io spero comunque che questo video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile di avervi mostrato cose che magari in altri video non avevate ancora visto se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like e iscrivetevi al canale che è importantissimo davvero super importante ovviamente seguitemi anche su tutti i miei social con il nome Toys Expression e poi se volete seguitemi anche sul mio secondo profilo Toys Expression Dolls sempre su Instagram intanto ragazzi io vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti